Pazienza per Lavezzi, l'era di rigore, Lavezzi finisce giù, non c'è rigore secondo Tommasi, vediamo? No, non c'è rigore. Floccari che punta la difesa del Napoli, prova la conclusione Floccari, che bel tiro da parte di Sergio Floccari. L'Atalanta può mettere questo pallone in mezzo con Plasmati, le fa valere le sue caratteristiche, il gioco aereo. I cross di Zalaceta, Lavezzi di testa, consigli. Salta proprio Plasmati, il pallone finisce ancora una volta alta sulla traversa, è naturalmente il giocatore più cercato. Ancora Plasmati in area di rigore, scarica su Guarente, la finta, il tiro sul fondo, che bella occasione questa per l'Atalanta con Guarente. Doni! La conclusione di Doni, lui ha avuto l'opportunità di portare in vantaggio l'Atalanta. Mister X, Dona Doni, quarto pareggio consecutivo.